Explorer 2, l'orologio da polso per gli esploratori moderni. L'orologio da polso Explorer 2 è uno dei modelli più iconici e apprezzati della casa orologera svizzera Rolex. Nato nel 1971 come evoluzione del primo Explorer, l'Explorer 2 rappresenta l'essenza della funzionalità e dell'eleganza. Il suo quadrante è caratterizzato dalla presenza di grandi indici e lancette facilmente leggibili anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia di illuminazione notturna Chromalight. La lunetta fissa incisa con cifre 24 ore rappresenta una delle sue caratteristiche distintive. Questa lunetta permette di leggere un secondo fuso orario in combinazione con la lancetta supplementare a freccia rossa. Questa funzione è particolarmente utile per gli esploratori che si trovano in ambienti dove non è possibile distinguere il giorno dalla notte, come le grotte o le regioni polari. La cassa dell'Explorer 2 è realizzata in acciaio Oystersteel, una lega resistente alla corrosione e agli urti. La cassa ospita il movimento meccanico a carica automatica calibro 3.285, certificato come cronometro superlativo per la sua precisione e affidabilità. Il movimento dispone di una riserva di carica di circa 70 ore e di un sistema di protezione antiurto paraflex. Il bracciale dell'Explorer 2 è anch'esso in acciaio Oystersteel ed è dotato di una chiusura Oysterlock che impedisce aperture accidentali. La prima versione dell'Explorer 2 è stata lanciata nel 1971 con il modello 1655. Questo modello aveva un quadrante nero con indici rettangolari e una lancetta supplementare arancione. Il movimento era il calibro 1.575 con data. La seconda versione dell'Explorer 2 è stata lanciata nel 1983 con il modello 16550. Questo modello aveva un quadrante bianco o nero con indici rotondi e una lancetta supplementare bianca o rossa. Il movimento era il calibro 3.085 con data. La terza versione dell'Explorer 2 è stata lanciata nel 1988 con il modello 16570. Questo modello aveva un quadrante bianco o nero con indici rotondi e una lancetta supplementare rossa. Il movimento era il calibro 3.185 con data, fermo secondi e sistema antimagnetico paracrom. La quarta versione dell'Explorer 2 è stata lanciata nel 2011 con il modello 216.570. Questo modello ha un quadrante bianco o nero con indici rotondi e una lancetta supplementare arancione. Il movimento è il calibro 3.187 con data, fermo secondi, sistema antimagnetico paracrom e sistema antiurto paraflex. Indossare un Explorer 2 significa portare con sé la storia di avventurieri audaci e imprese memorabili, unendo passato, presente e futuro in un oggetto di raffinata eccellenza.